Mi ricordo di te, ti raggiungo ad occhi chiusi Mi ricordo di te, per la strada mi incontrerai Mi ricordo di te, ogni estate sono qua Mi ricordo di te, tu sorridi e mi dici ciao Io sono assolutamente contrario ad una logica di puro rigore che porta alla recessione dell'economia, all'aumento della disoccupazione Nessuno intende abbandonare il rigore però noi dobbiamo accompagnare ad una politica di rigore una politica di sviluppo e di equità sociale La prima questione è sostenere le imprese ad esempio con una politica industriale che sia capace di incentivare l'innovazione dei prodotti in qualità Il tema ad esempio delle piccole imprese La regione Piemonte è una regione nella quale operano oltre 74.000 imprese credo che la stessa dimensione delle imprese e il rapporto altissimo tra le imprese e i cittadini in questo caso possa diventare, se ben accompagnata una straordinaria opportunità di sviluppo su questo tema le questioni del credito le questioni dell'innovazione le questioni dell'accompagnamento all'exporto diventano strumenti straordinari che una politica industriale attenta dovrà mettere in campo a fianco delle scelte che riguardano le grandi imprese Il Partito Democratico diciamolo in maniera molto ferma vuole un servizio sanitario pubblico e universale cosa significa? fornire tutte le cure necessarie a chi è ne ha necessità insomma vogliamo un servizio sanitario nazionale finanziato dal Fondo Sanitario Nazionale e la possibilità di aiuto a tutte le persone attraverso il pubblico Intanto sono le liste delle primarie perché nella loro larga maggioranza stragrande maggioranza sono un prodotto di quella straordinaria anche se molto complessa iniziativa delle primarie che in tempi molto stretti e in un periodo così complicato siamo riusciti a mettere in campo e le liste delle primarie hanno alcune caratteristiche che a mio avviso sono molto importanti prima di tutto sono le liste dei territori per la prima volta il Partito Democratico rappresenterà in Parlamento tutte le province piemontese naturalmente Torib è una circoscrizione a parte ma tutte le altre province del Piemonte del Piemonte 2 e dell'altro Piemonte saranno rappresentate dal PD del Parlamento nazionale grazie a tutti qui hanno colenne e Grazie a tutti